Veniamo, veniamo, noi con questa mia a dirvi, a dirvi una parola, a dirvi una parola. Che, scusate se sono poche, ma 700 mila lire, punto e virgola, a noi, ci fanno specie che quest'anno, una parola, quest'anno c'è stata una grande moria delle vacche. Una grande... Come voi ben sapete, punto, due punti, ma si, fai a vedere che abbondiamo, abbondantissi, abbondantum. Salutà, lascia fare, che dica che noi siamo provinciali, siamo tirati, salutandovi indistintamente, salutandovi indistintamente, I fratelli Caponi, che siamo noi, questa apri una parente, apri una parente, dici, che siamo noi, i fratelli Caponi. Caponi. Hai aperto la parente? Chiudilo.